La situazione è drammatica sul profilo dell'assistenza per una serie di discrasie organizzative non solo all'interno di questo ospedale ma anche con gli altri ospedali della provincia, Locri e Polistena. Noi stiamo disperatamente tentando da mesi di parlare con le amministrazioni ma purtroppo non c'è verso che ci si riesca a sedere al tavolo perché ascolti i nostri suggerimenti e soprattutto ascolti una cosa che non va bene. Sono giusi nella loro aurea torre e non intendono ascoltare, siamo addirittura dove andare sia dal prefetto che dal sindaco per lanciare questo grido d'allarme perché alla fine non chiediamo né soldi né posti né prebende ma noi diciamo da medici, quelli che hanno il problema in mano, che con questa situazione drammatica i pazienti possono morire e questo non può non interessare le autorità, le istituzioni e quante altre. Quali sono le criticità maggiori? Una gravissima carenza di personale, una gravissima mancanza di organizzazione tra ospedali per cui un paziente viene sballottato da una parte o dall'altra e quando si tratta di urgenza e emergenza la tempestività di intervento è fondamentale per la salvezza della vita, una carenza nell'acquisizione di materiale perché siamo molto attenti a non spendere per tenere il bilancio in pareggio e credo che ho detto tutto, e mancanza di posti letti. A ciò aggiunga che c'è il commissario d'acta che è stata la tragedia, la rovina della sanità in questa regione e il quadro è completo, solo che noi non siamo più disponibili da medici ad assistere male i nostri pazienti perché quando un paziente muore è vero che c'è un medico ma soprattutto noi pensiamo al paziente che muore e non possiamo più continuare a tenere queste situazioni ad altissimo rischio per i cittadini. Quali sarebbero le soluzioni? La soluzione innanzitutto immediatamente adeguare l'organico soprattutto nell'ambito dell'emergenza e urgenza, questa è la cosa fondamentale e la seconda è raccordarsi con protocolli, si chiamano protocolli diagnostico-terapeutici assistenziali, tra i tre ospedali della provincia, cosa che oggi non c'è perché ognuno va per fatti suoi.